In Marvel's Spider-Man 2 c'è un piccolo easter egg che riguarda Black Panther Tra i costumi di Miles Morales infatti è possibile sbloccarne uno proprio legato al personaggio E posizionandovi di fronte all'edificio Embassy of Wakanda Miles Morales assumerà la classica posa di Black Panther E sempre in Marvel's Spider-Man 2 in una delle missioni secondarie è possibile ascoltare il tema iniziale di Spider-Man Il Regno delle Ombre Un gioco di vecchia generazione che trovate anche sul canale con l'intera serie La prossima curiosità contiene uno spoiler su Marvel's Spider-Man 2 Nella parte in cui è possibile giocare nei panni di Venom un bug permette ai giocatori di spostarsi liberamente nella mappa Ed è possibile anche prendere una bici e farsi un bel getto con Venom per tutta New York Se ti piacciono queste curiosità ricordati di iscriverti al canale e non perderti la serie in corso di Marvel's Spider-Man 2